è la Slife Forza Verona mi raccomando comportatevi bene e andate in serie A un abbraccione da Giorgione è la Slife Forza Verona mi raccomando comportatevi bene e andate in serie A un abbraccione da Giorgione è la Slife Forza Verona mi raccomando comportatevi bene e andate in serie A un abbraccione da Giorgione Grazie a tutti